secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie in realtà l'hanno messo in commercio perché va superato le fasi di sperimentazione necessaria al commercio in realtà no non è vero come non è vero oh santo cielo non hai wifi ok grazie a me vabbè che magari aspetta prova un attimo a dire qualcosa consecutivamente così vediamo se c'è un interruzione di audio ma che si blocca anche lo schermo però non capisco motivo beh però comunque se parli bene o male dopo un po bacio nel senso se vuoi fare un discorso si sente sì sì no no quindi quindi ti ha dato un pezzo della tappa pen si le ho dato pure 10 euro ma guarda lì carica ah tranquillina si scriverà ora parte fatina non cazzo ridete benissimo cara mia milfissima ma per essere milf ci vuole la prole ce l'hai? no purtroppo no ho solo due gatti con cui vivo valgono come famiglia se li hai partoriti tu non so dove sono usciti comunque non facciamoci domande no no le domande sono per i quindi non sei non so bene quale tu hai la teoria della piatta consiste nella terra che è completamente piatta con il sole e la luna sopra che girano perché questa è la teoria più creditata completamente piatta non è che si intende ad esempio un piatto ovviamente ci sono dislivelli qua e là c'è la profondità dei mari c'è l'altezza delle colline l'altezza delle montagne insieme a Nappi è normale sono da cecchino ok cosa faresti a Malena se la avessi davanti? eh no sto col cecchino sennò da ora che avevo fatto il film con la Nappi ok tagliatemela tagliatemela non me va a parlare non volevo parlare cos'è che faresti cos'è che faresti col cecchino Rubino? che vuol dire col cecchino? cosa ci faresti col cecchino? ma no il cecchino ce lo lascio tutto ma che vuol dire nel senso tagliatemela e montatemela insieme con quella di prima grazie scusami no a posto no no niente niente tutto a posto quindi ok quindi a posto Malena l'abbiamo risolto va bene va bene ok a posto scusate mi sono un attimo ritagliato un momento per mi raccomando al reddit dopo no niente niente è tonda si è tonda non sferica se un oggetto è distante non puoi addietro non è piatta non è una pizza si vede che c'è la corsa comunque quest'anno stiamo spaccandone come Italia e ragazzi cioè il la persona su Instagram con più follower al mondo ovvero Cristiano Ronaldo è italiano e adesso non è italiano no vabbè gente qua o sono non so vanno a cercare apposta le persone più strane per far finta che che i pera piattissi diciamo siano delle persone problematiche o dei pazzi o ad esempio i convegni quelli a cui è andato Barbascura a Parermo adesso non mi ricordo bene qui ho portato video su video quelli sono convegni organizzati ciao Gaia ciao quanti anni hai 14 mamma mia non entro eh questa volta non entro stavolta non mi metterai in mezzo metti Vets metti Diamond stavolta non mi metti in mezzo non entro io no è inutile volerebbe questa antacchide perché chiaramente quindi tutti i piloti come ha fatto come ha fatto il Giappone a attaccare per l'arbor il Giappone come ha fatto attaccare per l'arbor se la terra non è sferica dovrebbe essere passato per la Russia dall'Europa e aver colpito l'altra parte dell'America come ha fatto il Giappone a attaccare per l'arbor una mappa griso non è la mappa griso la mappa della terra piatta non è assolutamente così anzi molti la maggior parte se non tutti i voli nell'emisfero sud la maggior parte se non tutti i voli nell'emisfero sud dimostrano che la terra è effettivamente a tutti gli effetti una terra piatta e non è scusa ma quelli che hanno fatto il giro del mondo in aereo come hanno fatto scusami ma poi tutti i piloti tengono un segreto quindi quindi scusa non c'è un piloto d'aereo questo muro di ghiaccio perché non lo vediamo con i binocoli con i telescopi dovremmo vederlo se esiste no ma l'antà questa muraglia a parte che non è una muraglia di ghiaccio mi dicono sempre delle idee sentiamo il ritornello che sono curioso mi ho messo un pezzo a casa ma questa è la cancella tagliata in una pina vai avanti ho paura ho paura ho paura di ritornello eh chiedete per favore forse in tena voi bestemierò ma sì ma sai per sentire noi mannaggia a quel porcaccio del porco no basta 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 scusate scusate chiedo scusa a chiunque possa essere aspetta chiudiamolo forse mi soppassarti me magno cristo mi soppassarti a chiunque può fare